Benvenuto in scelta del prodotto. In questo video discutiamo del migliori adattatori Powerline Wi-Fi. Ho fatto questa lista sulla base della mia ricerca personale e opinione, e ho cercato di registrarlo in base al suo prezzo, qualità, durata e altro ancora. Se vuoi vedere il prezzo e saperne di più su questo prodotti, puoi che cutlink qui sotto nella descrizione qui sotto. Al quinto posto, abbiamo la D-Link DHPW311AV. Il kit D-Link si avvale del sistema elettrico domestico per estendere il collegamento internet e renderlo disponibile dove non è facilmente accessibile, utilizzando elettricità. Include due adattatori che si collegano direttamente alle prese di corrente e che, a condizione che le piccole dimensioni, non ostacolino in alcun modo quelle adiacenti. L'assistenza per la tecnologia Wi-Fi 802.11n, molto più veloce della tradizionale 802.11g. Al numero 4, abbiamo D-Link DHPW611AV. Per prolungare la rete Wi-Fi a casa tua o per collegare un dispositivo tramite televisione via cavo Ethernet che non ha una connessione Wi-Fi, un prodotto che non ti fa tornare indietro molto quale ideale soddisfa ciò per cui viene creato è il set di HPD-Link. W611AV. Nel pacchetto c'è un adattatore da collegare direttamente al router utilizzando la porta Gigabit e anche un secondo dotato di antenne che devono essere collegate. Al terzo posto, abbiamo la Netger PL W1000. Il set di linee elettriche Netger PL W1100P si include un adattatore e anche un fattore di accessibilità che consentono di cablare un appartamento o un condominio e di avere anche una linea dati dove necessario. La configurazione è davvero semplice e l'adattatore deve essere collegato al router esistente tramite un televisore via cavo Ethernet collegato a una presa elettrica. Al numero 2, abbiamo il TP-Link TL WP42220. Per configurare rapidamente una rete Wi-Fi nell'area in cui è posizionata la linea elettrica, il design consigliato da TP-Link mette sul piatto una tecnologia moderna molto preziosa e anche facile da utilizzare. È un dato di fatto. Semplicemente premendo il pulsante Clone Wi-Fi sullo strumento in un batter d'occhio la rete Wi-Fi viene ampliata con lo stesso nome e ottiene l'accesso alla password che hai nelle altre stanze. Infine, il numero 1 nella nostra lista, abbiamo il tenda PW201A più P200. Il kit adattatore Powerline con Wi-Fi tenda PW201A è affascinante prima di tutto per il costo al quale sono commercializzati, molto più basso di vari altri adattatori con le stesse esatte caratteristiche ma prodotti da marche più popolari. In realtà, il kit include due adattatori dotati di una porta Ethernet a cui il router può essere collegato per il gadget che funge da master e qualsiasi altro gadget digitale di quello che viene specificato come uno slave. Come sempre, troverete tutti i link dei prodotti che abbiamo discusso in questo video giù nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato il nostro video, si prega di come condividere questo video, e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per i video futuri.